500.000 euro di danni, è questa la cifra che la Securpol chiede al collega di Antonio Di Stazio, l'ormai ex dipendente della Securpol, licenziato per negligenza qualche giorno dopo il furto. A.N. è infatti accusato dall'azienda per cui prestava servizio di aver favorito il colpo a causa di alcune sue mancanze. Era l'11 luglio quando Antonio Di Stazio, arrestato per furto aggravato, era scomparso insieme al carico del portavalori. Poco dopo era stato ritrovato solamente il furgone vuoto. Di Di Stazio e dell'oro nessuna traccia. Il collega del settantenne era stato prima sospeso e poi licenziato subito dopo l'arresto di Di Stazio. L'uomo che si trovava quel giorno insieme al sessantenne finito in caccere, adesso si deve difendere in sede civile dai suoi ex datori di lavoro che chiedono un risarcimento per la precisione 500.000 euro di danni al vigilante per negligenze. Le accuse mosse verso l'uomo sono quelle di aver trasportato un carico eccessivo nel portavalori ed una sosta imprevista ad un bar. Ma il furgone in quel momento sostiene il cinquantenne era vuoto. L'uomo attraverso il proprio avvocato ha sempre sostenuto di essere stato ingannato da Di Stazio sull'entità del carico aggiuntivo. La Securpo all'intanto ha bloccato il TFR e gli ultimi stipendi dovuti al cinquantenne. Rimane invece ancora chiuso nel suo silenzio Antonio Di Stazio nemmeno una parola sull'oro sparito dal carcere di San Benedetto.